Un caro saluto a tutti e a tutte. Siamo al consueto appuntamento del venerdì, nell'approfondimento. Oggi abbiamo, possiamo dirlo, un ospite di eccezione. Abbiamo Claudio Durigon, che è sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Quindi, diciamo così, l'uomo che sta trattando il tema delle pensioni, che come sappiamo è un tema che sta a cuore di tutti gli italiani. Salva a tutti. Grazie, salva a tutti. Allora, entriamo subito nel vivo della discussione. Sappiamo che in queste ore si sta concludendo il dibattito alla Camera, che la manovra passerà la settimana prossima al Senato, per poi, immagino con una fiducia, tornare alla Camera per il suo varo definitivo. Perché la deadline, come tutti sanno, è il 31 dicembre. Quindi il tempo ormai corre. Fin qui il Governo non ha, diciamo, presentato il dettaglio della manovra su temi che riguardano la famosa quota 100, quindi il tema delle pensioni e il tema del reddito della cittadinanza. Lei è la persona giusta per darci qualche delucidazione o qualche rassicurazione. Allora, il primo punto è questo. C'è una trattativa in corso con Bruxelles per quanto riguarda l'architettura di questa manovra. Ma alla fine, questi due numeretti, 1,5, che è il numero che caratterizza la crescita, il Paese, voi dite, crescerà il prossimo anno dell'1,5%. Pare che quell'obiettivo non sia raggiunto. La prima domanda è, quel numeretto verrà ribassato? E la seconda domanda, quell'altro numeretto, 2,4, che è il rapporto fra il deficit e il prodotto interno lordo, che anche in questo caso l'Europa giudica un po' troppo alto, anche questo verrà ribassato? Allora, guarda, io ti dico, la mia è quello su cui stiamo lavorando e come in qualche modo vogliamo lavorare. Sicuramente questo trimestre è uscito una crescita che è dello 0,1% inferiore, quindi sicuramente è un campanello allarme che ci deve far guardare bene con realtà quello che sta succedendo in questo Paese. È anche vero che questo era già stato annunciato a maggio nelle varie unioni delle varie commissioni europee, non è una novità che stiamo vivendo oggi. È ancora più quindi vero che dobbiamo in qualche modo intervenire drasticamente su quello che è la proiezione futura del nostro Paese. Oggi c'è il nostro Presidente Conte che in qualche modo sta dialogando con la stessa Commissione, sta portando avanti finalmente facendo vedere anche quali sono le due azioni che stiamo mettendo in campo e secondo me già lì l'Europa ha già percepito e ha fatto questa apertura perché sta capendo davvero che saranno due manovre che in qualche modo andranno a interlocuire su quello che è il sistema gravoso oggi del mercato del lavoro e il mercato economico italiano. Io credo che i risparmi che ci potrebbero essere il primo anno e non per tagli su queste due azioni, ma perché una parte è un po' più tardi, l'altra perché ha dei paletti che spostano un po' più avanti e la possibilità di andare in pensione specialmente nel pubblico impiego, possono e devono non ridurre il 2,4 ma secondo me dovrebbero invece andare a incidere su quelli che sono gli investimenti perché un Paese in decrescita ha bisogno di investimenti veri per poter rilanciare. Quindi se ho capito bene Claudio, noi ci diamo del tutto perché siamo anche vecchi sindacalisti, quindi possiamo anche godere... No, sei una persona che stimo molto, lo sai insomma, quindi... È una stima reciproca naturalmente, poi noi siamo persone che badano al concreto e infatti se ho capito bene il tuo ragionamento, il ragionamento è questo, noi pensiamo di risparmiare nelle manovre che riguardano le pensioni, lavorando sui tempi, un pochino più in là poi ci spiegherai, e sul reddito di cittadinanza. Il 2,4 può rimanere sempre 2,4 però è evidente che se una quota diminuisce la spesa corrente e va a investimenti, noi sappiamo che gli investimenti non dovrebbero contare ai fini del rapporto fra deficit e prodotti interni. Cioè questo sarebbe la cosa migliore per il Paese in questo modo, poi dopodiché naturalmente è Conte che sta facendo questa trattativa, se poi ho 0,1 in più oppure rimane 2,4, sarà insomma la tematica di questi... Mi pare che Conte abbia detto al di sotto del 2 non abbiamo. Un'altra obiezione della comunità europea è appunto quella di dire, il punto è che il mix 80 spesa corrente e 20 investimenti è un mix per noi sbagliato, quindi bisogna tirare su la parte investimenti e diminuire la parte spesa corrente. Ora detto questo, però c'è un punto, c'è un altro numeretto in questa manovra, noi sappiamo che in centinaia di pagine di documenti parlamentari poi bisogna fotografare le cose essenziali, oltre all'1,5 abbiamo detto probabilmente verrà ridimensionato, il 2,4 anche questo verrà in qualche modo sistemato, la conseguenza potrebbe essere una diminuzione di risorse a disposizione. Ma oltre a questo, voi avete messo ad esempio 6,7 miliardi, questo è il numero, sia per quanto riguarda le pensioni, sia per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Poi si recuperano 2 miliardi dalla vecchia gestione, dalla precedente legislatura, quindi quei 7 miliardi per il reddito di cittadinanza diventano 9. Ma secondo te questi 7 miliardi per fare tutte le cose che voi dite di fare, quota 100, 41 anni, eccetera, eccetera, bastano perché quando io facevo il ministro e quando facevo il presidente del commissione del lavoro, a me facevano degli altri conti molto più salati. No, ti spiego meglio questa operazione. No, spiego proprio intanto il fondo, questo famoso fondone di 16 miliardi che è stato davvero suddiviso così, ma non è che i due vasi non sono comunicanti, quindi il fondo è di 16 miliardi, questo secondo me deve essere spiegato meglio, e con questi 16 miliardi si fanno tutte e due le azioni. Dopodiché abbiamo dovuto specificare meglio le azioni 6 e 7, 7, 9 e 9, ma non è che i due sono vasi comunicanti e possono essere presi da una parte all'altra per fare questa manovra A o B secondo delle varie necessità che si avranno. Ti ripeto, nel primo anno siamo al di sotto abbondantemente della cifra che è in qualche modo anche prevista dal fondo minore, che è la di 6,7, nel secondo e terzo, ti dico la vita, siamo un livello un po' superiore, però nella compensazione delle due azioni rientriamo nei 16 miliardi. Quindi secondo te ce la facciamo, però io mi faccio sempre questa domanda, allora quota 100, sappiamo che si tratta di una quota 100 per modo di dire perché c'è un numero fisso, non è mobile, 38 anni di contributi, è chiaro che 38 fa risparmiare rispetto a fissare i contributi come le vecchie quote, quelle che ho inventato io, a 35 anni, ma se quel numero è fisso, 100 vale solo per chi ha 62 anni, perché la somma fa 100, ma chi ne ha 63 per arrivare a 38 i contributi farà quota 101 oppure 102. Grosso modo la stima dell'Inps e della ragioneria, se non sbaglio, una stima che già lì dice ci vogliono circa 6, 7 miliardi e non è una stima lineare perché sappiamo, tu ce l'hai detto, il primo anno c'è un risparmio. E poi il secondo e il terzo do più. Però negli anni successivi, ma se tu devi… Raccontiamo bene. Ecco, allora spiegami solo una cosa, quota 100 più quota 41, cioè i 41 anni per poter andare in pensione, come ci stanno queste due cose con 7 miliardi? Sono contento perché così le possiamo raccontare bene, con te è anche più facile perché tecnicamente sei molto preparato. Allora, noi sai benissimo che eravamo di fronte alla scelta iniziale di una quota 100 libera, no? Che in qualche modo avrebbe dato la possibilità a circa 850 mila persone di andare in pensione e questo sarebbe stato davvero un impatto forte per il mercato del lavoro. Un diritto, diciamo. No, ma anche un impatto forte perché penso che le competenze è difficile anche sostituirle quando fuoriescono così dal mercato del lavoro. E quindi abbiamo rifatto dei conteggi e abbiamo cercato una formula che in qualche modo potesse svuotare questo bacino della legge Fornero dove tu hai combattuto tanto per trovare soluzioni in modo di poi passare alla quota 41. Quindi i 62 e i 38 sono una media che portano al di sotto di quello che era l'ape social, il famoso 63, che era prima in piedi. E anche sui contributi, i famosi di 38 anni, comunque sia sono una determinazione di una possibilità di andare in pensione che fa fare meno guadagno, il guadagno che percepisci in meno è sicuramente un guadagno accettabile perché hai messo a quota 38 perché se tu fessi 37, siccome prendi per gli anni che tu hai contribuito sarebbe un meno guadagno ancora superiore. Ed ecco che abbiamo trovato, secondo me, una media per trovare una soluzione per dare la possibilità di andare in pensione a circa 350.000 persone. Quindi questo è una platea che in tre anni può svuotare questo bacino che ha ristagnato con la legge Fornero e subito dopo, secondo me, noi possiamo finalmente, visto che andiamo anche sul sistema contributivo un po' più forte, quindi possiamo notare la famosa quota 41 che oggi la quota 41 secca, come era, costava circa 9 miliardi l'anno a salire e quindi era anche lì, diciamo, circa 600 e passa mila persone che potevano andare in pensione, quindi era anche lì un problema serio se facevamo quella azione. Ecco perché ti dico, quando l'Europa ha capito come ci siamo mossi e la volontà di muoverci comunque sia ha fatto respirare un'area di non sfascio totale del Paese, ma davvero un ricambio generazionale che vogliamo mettere in campo. A parte il fatto che io contesto l'Europa quando dice se toccate la Fornero cade il sistema previdenziale. Io sono proprio contrario, no, lo dico da studioso della materia perché come tutti sanno i grandi risparmi che ci saranno nel sistema pensionistico partono dal 2004 al 2050 con Maroni, poi c'è Damiano, poi c'è Berlusconi, poi c'è la Fornero e tutte queste riforme, anche diverse fra di loro, però la Corte dei Conti ci ha detto che porteranno ad un risparmio in 46 anni, 2004-2050, pari a 900 miliardi di euro. vale a dire 60 punti di prodotto all'interno, l'ordio, il 40% del debito, cioè un risparmio colossale. La Fornero incide per un terzo, quindi dire se si toglie qualcosa dalla Fornero crolla il sistema, non è vero perché incide per un terzo. Sicuramente va riconvertita con tutta l'attenzione del caso, però dalle cose che tu hai detto, io la capisco così, io cerco di tradurre, anche perché chi ci ascolta, sei stato chiaro, ma faccio una traduzione. Voi dite, chi ha 62 anni e 38 di contributi lo mandiamo in pensione, naturalmente... Può andare in pensione, non lo mandiamo, è brutto. Può, certo, sì, sì, mi sono espresso male, no, può andare in pensione. Ha un diritto, ha una porta di sicurezza, se vuole va, se non vuole rimane. Bene, naturalmente se ha 63 anni, farà quota 101, anche quello può andare in pensione. Dopodiché noi pensiamo, tu mi dici, di esaurire questo bacino nell'arco di un triennio. Ma faccio una domanda, ma la quota 100, come la chiamate voi, è solo per tre anni o durerà per sempre? No, no, quello che vogliamo fare, guarda, è una cosa tipo quello che stiamo facendo oggi. Per esempio, noi abbiamo visto che mettendo la quota 100 abbiamo svuotato anche di utenza l'Ape Social, che però l'abbiamo mantenuta, per farti capire, verrà mantenuta. Noi vogliamo che in qualche modo rendere possibile e sostenibile la quota 41, che oggi non era possibile e non era fattibile. Quindi, con questi tre anni, dove andiamo a svuotare questo bacino di utenza, rendiamo sostenibile la quota 41 e dove necessita, per alcune figure determinate dall'usura e tutto quanto, lasciare anche questa quota 100. Sì, io l'ho capita così, una sorta di staffetta. Tu mi dici, per i primi tre anni noi lavoriamo sul bacino relativo alla quota 100. Svuotato quel bacino, dal quarto anno in su, scatta l'operazione quota 41. Quota 41 e lasceremo quota 100 per alcune categorie. Ecco, però ti faccio presente che quando tu posti per tutti quei 350.000 che voi dite, potrebbero avere la possibilità di andare, se lo decidono loro autonomamente. la ragioneria, l'Inps, l'ufficio parlamentare di bilancio, ti chiederanno di fissare la cifra di copertura per tutti gli anni, non solo per i primi tre anni. E' qui che io non capisco, perché quando poi passi a quota 41 sono altri miliardi che vi chiederanno. Allora, l'impatto intanto è per tre anni. E durerà per sempre. L'impatto è per tre anni. E usiamo anche la prova sperimentale, per farti capire. E' un po' come l'ape social, la sperimentale. Non è che durerà per sempre. Si scade alla fine di quest'anno. Esatto, e questa sarà la stessa tipologia. Dopo, nel momento in cui siamo pronti, faremo quota 41. Quindi, ripeto, voi avete una quota 100 per tre anni. Se la domanda tua, Cesare, siccome sei bravo, se la domanda tua è, nell'azione che mettiamo in campo, si leggerà anche quota 41 oggi? No, non si leggerà questo. No, però si leggerà. Così ti dico, voglio essere onesto più terreno. Dalle tue parole, io capisco che 2019-2021 c'è quota 100. La cosa politica è poi, dal 2022, fare quota 41 e tenere anche quota 100. Per alcune categorie. Io temo che la congiunzione al 2021, alla fine del 2021, fra passaggio quota 100 e passaggio 41, sia una somma, non come dici tu, abbiamo esaurito e quindi non costa più, perché costerà nel tempo. Ah, non, quello costa. No, non ce l'abbiamo, il costo di tutto. Quindi questi 6 miliardi e 7 non basteranno. Cioè dovrete rifinanziare, secondo me. Perché tu parli sempre di 6 miliardi e 7 e non di 16. Eh, ma 16 comprende anche il reddito di cittadinanza. E anche la pensione di cittadinanza. Ti ho detto che appunto queste due azioni sono in qualche modo comunicanti. A me sembra difficile. Cioè io, la critica che muovo all'impianto della vostra manovra è una critica per il momento quantitativa. Cioè secondo me con i soldi che voi avete messo, i 16 miliardi cumulati per tre questioni che avete chiamato quota 100, reddito e pensione di cittadinanza, non ce la fate e vi illudete che ci sia un passaggio da un vaso all'altro. In ogni caso, se a quelle tre cose voi sommate anche quota 41 e tutto il resto di cui parleremo, io penso che si vorranno più soldi. Qual la differenza? Cioè io la quota 100 la voglio, vorrei che fosse chiaro. No, no, no. Mi inventate io le quote. Cioè ti dico la verità, insomma, io ti dico quello che oggi è i conteggi che noi ci hanno fatto, IMS e Ragioneria, e i conteggi che c'è anche per i prevedenti. Si vede che a me facevano altri conteggi. Io non so quello che facevano a te. Poi ti dico che la situazione odierna è questa. Noi abbiamo che per i tre anni di quota 100 e per i tre anni del reddito di cittadinanza riusciamo a tenere nei 16 miliardi le due azioni. Dopodiché, tra tre anni, nel momento in cui vogliamo che sia svolto il bacino per attivarci, sono d'accordo con te che rimangono dei riesguiti rispetto alla quota 100. Ma è anche vero che poi l'effettivo tiraggio ci dimostrerà quanti residui rimangono per fare quota. E poi c'è un impatto sul primo anno e non del quarto anno, perdonami, e poi a carare sotto questo punto di vista. Dovete fare dei fondi per utilizzare eventuali residui e risparmi. Perché se non fate i fondi, i soldi spariscono. No, scusa, mi sono spiegato male. Tecnicamente poi dobbiamo spiegarlo anche ai spettatori. Perché io tendiamo su tecnico che poi non riusciamo a spiegare bene. Allora, nel legge di bilancio, e tu lo sai bene, non si mettono i soldi di quanto effettivamente spenderai in un anno. Quando si parla oggi che noi mettiamo il 2,4 e i famosi 6,7 che poi diventeranno 5 o 4,5 adesso, è la copertura totale di 100. Significa che poi se il tiraggio è il 60, 70, 80% di quello che è l'azione, tu spendi meno e qui i soldi vanno via. Ma come vanno? Spariscono. Spariscono. Perché spariscono dal deficit, però dal 2,4 diminuisce. Non è che sparisce anche il deficit, che è anche il minore. Vanno nel calderone. Vanno tutto nel calderone. Ma anche i potenziali che tu dicevi poco fa, del quarto anno, diminuiscono tanto se il tiraggio è minore. Non è che... Ma tu l'effetto ce l'hai a conoscenza nel secondo e terzo anno. Questo non puoi... Cioè, queste sono le coperture. Insomma, la copertura di oggi non ha un valore effettivo sul tiraggio domani. Questo è uno dei veri motivi perché non abbiamo già messo quota 41 oggi. Certo. Quello che io so per esperienza diretta è che chi fa i conti, la ragioneria, dice se 100 persone hanno il diritto di andare in pensione io calcolo il costo per 100. Poi, se 50 vanno in pensione a me non interessa. Vuol dire che ho risparmiato 50 ma non te li metto a disposizione per fare delle altre operazioni. A meno che si faccia il rubinetto. Non hai capito quello che ti intendevo. Scusa, forse ho spiegato male. Allora, tu prima hai detto che siccome noi facciamo diciamo una quota 100 e quindi persone vanno in pensione non finisce al terzo anno giustamente ti porti i residui nel quarto e il quinto e sia sempre di meno nel quarto e il quinto e il sesto anno. Io ho detto perché poi vogliamo fare quota 41 e tu dici beh, quindi nel quarto c'è questo più questo perché tu non è che te lo perdi. Ma quello che oggi è conteggiato, la copertura, non sarà mai uguale a quello che tu effettivamente hai speso perché lì puoi determinare quanto è speso davvero e quanto ti porti che oggi invece lo copri al 100. Sì, vuol dire che nel calcolo che si deve fare si comprende anche colui che fra 4 anni, 5 anni arriverà a quota 100 perché ci saranno persone che adesso hanno magari 34 anni di contributi ma fra 4 anni hanno 38 anni di contributi Assolutamente sì, però si spalma tutto. Quindi quando sarà il momento noi faremo dei veri conteggi insomma dove mettere molto dentro. Quello che abbiamo chiarito con Claudio Durivono il sottosegretario è una cosa. Adesso c'è quota 100. Terminato un triennio chiamiamola di sperimentazione di questa quota 100 scatterà un'altra operazione che è quella cosiddetta dei 41 anni di contributi con i quali si potrà andare in pensione indipendentemente dall'età. Quindi ho maturato 41 anni e andiamo in pensione. Adesso c'è già una misura per i lavoratori precoci però abbiamo visto è una misura abbastanza limitata nel senso che dice devi stare dentro le 15 categorie dei lavori gravosi dai macchinisti fino alle maestre d'asilo oppure sei un disoccupato oppure oppure se sei in quelle categorie e hai almeno un anno di contributi prima dei 19 anni quando hai 41 anni di contributi puoi andare in pensione però abbiamo visto è limitativa in sostanza voi vorreste come si dice liberare da quei vincoli delle 15 categorie eccetera eccetera quelle persone cioè il vostro ragionamento è dal quarto anno chi ha 41 anni ha cominciato e forse lasceremo qualche cosa anche di questa manovra oggi poi vedremo i conti e comunque sia la stessa proiezione di come può andare faccio un esempio l'Ape Social che comunque sia ha aiutato molto in questo periodo di negatività nell'uscita dal mercato del lavoro è un'operazione che vogliamo mantenere è vero che il suo effetto sarà ancora minore in questa proiezione essendoci 62-38 però ci permette di dare risposte ai 63-37 faccio un esempio anche ai 36 in qualche caso perché va a interagire con meno contributi specialmente ai disoccupati in qualche modo che possano collegarsi quindi abbiamo una scelta politica quella di confermare per un altro anno l'Ape Social e questo secondo me fa capire come vogliamo rendere sempre più armonica questa nostra riforma quindi abbiamo un'altra notizia l'Ape Social c'è verrà prorogata io di questo sono molto felice perché è stata anche una tua richiesta mi ricordo è stata una mia richiesta è stata una mia richiesta te l'ho fatta con grande calore con grande energia anche perché io ho sentito dire chi sta all'opposizione che Quota 100 e Ape Sociale confliggono non è vero ho sentito dire da Garavaglia il sottosegretario che sta al governo si sovrappongono non è vero sono complementari la svuotono un po' però tu sai bene che se abbiamo la lavoratrice il lavoratore che ha i 63 anni di età ne ha più di 62 ma non ha 38 di contributi ne ha 36 a quella persona sono sufficienti se appartiene a quelle categorie per andare in pace se no aspetterebbe con la quota altri due anni guarda la vera volontà politica che in qualche modo Salvini ci ha voluto dare come input di lavoro è che noi non dovevamo togliere niente a nessuno delle possibilità vigenti ad oggi ma dovevamo ampliare questa possibilità di platea quindi per noi Terminante insomma siccome non riuscivano con i due paletti del santuato 38 rimanevano fuori alcuni soggetti l'APE Social siccome era doveroso che in qualche modo non togliessimo un diritto a persone che possono invece andare in pensione no questo è molto importante perché anche qui per estrema sintesi si può dire che quota 100 diciamo favorisce maggiormente chi ha delle carriere lunghe e continuative di solito sono i lavoratori maschi diciamo che svuota molto il bacino dell'APE Social perché questo lo possiamo svelare non svelo altri numeri ma questo mi sembra anche giusto la quotazione dell'APE Social sono circa 100 milioni il primo anno 200 al secondo per farti capire nella loro attività quindi è un'opzione che insomma rispetto al miliardo e 8 di copertura che avete messo voi è un'azione molto ridotta però io adesso mi pare nei giorni scorsi c'è stato il bilancio sociale dell'Inps emerge che le risorse messe dal passato governo per l'APE Social non siano state utilizzate se non in parte le potete utilizzare voi per prolungare quindi la sperimentazione io spero questa è una speranza che ho dato che ti ho chiesto con forza non sui succhio qualche ragioneria particolare dato che ti ho chiesto con forza quando ci siamo visti mi raccomando l'APE Social io sono contento perché è rassicurante ripeto perché se no ci sono persone posso affermare anche che tu hai detto Claudio non fate la quota 64-36 perché se no sarebbe quindi una stimolianza insomma no 64 era troppo alto allora qui ci sarebbe anche una cosa da vedere per i cosiddetti precoci con l'attuale normativa se siete in grado un po' di migliorarla quella normativa perché c'è il tema del blocco dell'aspettativa di vita mi pare che non ci sia ancora la circolare dell'Inps magari se si mettesse mano anche all'attuale normativa per i lavoratori precoci quelli che con quelle caratteristiche arrivano ai 41 anni di contributi non sarebbe non sarebbe male cioè andrebbe verso quella filosofia che tu hai detto cioè lasciamo le cose che ci sono che funzionano stiamo lavorando per lasciare quota 41 e per bloccare l'aspettativa di vita sull'anzianità quindi 41 e 10 per le donne e 42 e 10 rimangono i due paletti insomma per tutti per tutti perché ma proprio se vai in virtù di andare a quota 41 ma è una logica politica non puoi aumentare oggi l'aspettativa di vita e poi andare a 41 intanto la blocchiamo per poi decrescere successivamente questo è se siete così bravi da far quadrare i conti per carità tanto di cappello ripeto a me io guardo su questo devo essere sincero perché è una volontà forte voluta sicuramente dalla mia parte politica ma ti garantisco che è una volontà forte anche di Di Maio di trovare la soluzione per quota 100 quindi è un'unione di intenti che forse per la prima volta è proprio totale per arrivare a trovare e determinare appunto che questa azione possa andare a buon fine ecco lì ci sono altre due cose che nelle interviste vengono dette ma ovviamente essendoci solo dei numeretti per il momento nella legge di bilancio non ci sono ma opzione donna e la non a salvaguarda degli esodati che fine fanno? Allora opzione donna la mettiamo quindi è nel è nel nella norma che abbiamo che noi abbiamo costruito ma la mettiamo con quali età con quali contributi? Con l'età di 58 e 59 insomma prima era 57 e 58 adesso 58 e 59 e dopodiché rimane tutto come era prima insomma l'impianto così diamo anche una risposta alle donne che in qualche modo stanno di sotto dei 62 anni insomma per andare in pensione per quello che riguarda invece la non a salvaguardia abbiamo chiesto proprio all'Inps la determina che ci determinasse la pratea di dove di dove poter intervenire in base a quello cercheremo una norma d'occa anche per aiutare a salvaguardare loro credo che parecchi comunque sia saranno aiutati dalla norma 62-38 insomma da questa quota 100 più di tanti potrebbero andare io faccio un appello però anche a questo della norma della salvaguardia vediamo la pratea quanti sono e quanti non sono però ero in una trasmissione non mi ricordo quale insomma di un'altra televisione che intervistavano queste persone c'è stata gente che diceva no io non voglio andare con la quota 100 perché voglio andare con la vecchia salvaguardia perché vado antecedente alla fornera beh questo non è più possibile insomma se la quota 100 dà un diritto anche per i ragazzi che sono a quell'interno è giusto che ci vanno insomma comunque io ho fatto 8 salvaguardie insieme ai miei colleghi della commissione di lavoro come sai abbiamo salvato oltre 150 mila messe a riparo dalla legge fornera beh faccio un esempio questo ti voglio fare un esempio perché nessuno dice ma la legge fornera che tutti dicono che ha trovato soluzioni soltanto di salvaguardie sono 14 miliardi 11 no 14 il nuovo conteggio te lo do fidatemi sono 14 miliardi e poi perdonami io faccio sempre poi per carità ognuno la guarda come mezzo bicchiere pieno vuoto come vuole ma anche tutti gli ammortizzatori sociali utilizzati in questi anni di crisi perché la pensione scattava più avanti sono stati miliardi e miliardi io credo davvero cioè non c'è stata secondo me purtroppo l'innalzamento così aspro di quella di quell'azione ha creato dei danni tangibili a tutti quanti credo che era ora che ci mettiamo mano no io ricordo anche parole con altri diputati che erano a mio posto non annicini che diceva giustamente Claudio magari ti hanno 5 miliardi sarebbe già una grande cosa per ecco questo è un governo che ha deciso di farlo poi sicuramente ci diranno era meglio farlo per un'altra cosa invece per questo però intanto credo che rispettiamo quello che era il nostro programma vogliamo svuotare questo bacino ci siamo faremo sicuramente un impianto insomma importante se sono 5 8 9 inizialzo anno comunque sia sono soldi che li abbiamo messi a discapito di altri facciamo un esempio che potrebbero essere azioni che si potevano fare dopodiché sono convinto che se ci rimangono dei soldi quest'anno dobbiamo mettere in investimento questo è sacrosanto io diciamo che sono favorevole a queste misure come ho detto soprattutto per quanto riguarda le quote il mio scetticismo è sulla diciamo quantità di risorse che vengono messe perché so che si tratta di questioni questioni molto costose vedremo naturalmente per fare queste operazioni ci vorrà farete un emendamento ti posso garantire insomma che i conteggi non li ho fatti io sì sì no però non c'è insomma se non sei preoccupato io posso portarti i conteggi che hanno fatto a me perché tu sai tu sai che io nella scorsa legislatura purtroppo il mio governo non ha voluto farlo per me sbagliando perché abbiamo consegnato a voi la quota 100 come bandiera che era una cosa nostra io avevo proposto una formula di quota 100 che mi hanno più o meno come la vostra un po' più favorevole sui 35 anni ma c'era un taglio dell'assegno quindi si equivaleva me l'hanno classificata a 6 miliardi poi ho chiesto anche i 41 anni mi hanno chiesto altri 6 miliardi quindi cifre molto diverse 12 miliardi che adesso che adesso stanno circolando ci siamo però se tu vedi allora tu hai fatto 35 noi abbiamo fatto 38 ti fa capire che insomma siamo leggermente più alti come soglia tu 62 io 63 quindi 35 anni 35 io ho fatto tutti i vari step diciamo che ti dico pure per fortuna non hai fatto 35 perché sennò il meno guadagno sarebbe stato molto più alto questo te lo dico perché andavo in pensione è chiaro poco di che io c'avevo il paletto che Matteo voleva assolutamente che non ci dovevano essere tagli né di contributi figurativi né di 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 assegno certo quindi oggettivamente penso che l'azione che abbiamo messo in campo è equa e se tu vedi il primo anno si spende di meno semplicemente perché ci sono le finestre normali che abbiamo messo in pensione e poi quelle un po' più ampie che sono le finestre invece per il pubblico impiego e quello fa scattare al secondo anno l'attività però alla fine cioè quella era la cifra le finestre servono per ritagliare i costi questo lo sappiamo perché se tu batturi il diritto a gennaio e vai a marzo è ovvio che per due mesi non prendi per una volta l'assegno la media di tre anni di quota 100 sta intorno di soltanto quota 100 sta intorno di 7 miliardi e mezzo questa è la media di tre anni questa è la media di tre anni poi si innesteranno il 41 vedremo perché io sono ripeto un po' scettico sui conti ma detto questo poiché alla camera concluso l'iter si passa al senato farete un emendamento che precisa tutto questo perché non è che si può andare avanti semplicemente indicando delle cifre ci vuole proprio come si dice un qualcosa di chiaro prescrittivo ci sono due versioni che sono in campo una è la versione di fare l'emendamento in senato portarlo e discutere nell'aula dell'aula del senato e poi portare di nuovo alla camera per la sua definizione ma questo sarebbe un iter che ti dico siamo pronti anche a questo l'altro invece che anche Di Maio poneva che era di fare un decreto e che parte dal primo gennaio vediamo in questi giorni decidiamo però siamo pronti per tutte e due le azioni bene allora ringraziamo Claudio Durigon per queste spiegazioni come ho detto noi siamo interessati ad avere come si dice l'approfondimento della materia più che fare la polemica politica adesso abbiamo invitato un importante esponente del governo inviteremo nelle prossime puntate Graziano Del Rio che è un importante esponente dell'opposizione sentiremo anche i suoi conti e il suo punto di vista in modo tale che gli spettatori possano farsi una opinione e capire esattamente come stanno le cose grazie ancora un saluto a tutte e a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.